Script crea elenco dinamico prossime visite. Ciao, in questa lezione FileMaker Hub Medici vediamo come implementare uno script per visualizzare una maschera scheda delle prossime visite. Attraverso tale maschera sarà possibile, a partire da qualsiasi formato, poter accedere alla pianificazione delle visite settimanali 7 giorni considerando anche il giorno corrente. A questo scopo usiamo gli script di cui una delle istruzioni fa appello alla funzione dinamica recupera data corrente. Nella descrizione di questo video trovi il link per scaricare il file iniziale e finale di questa lezione. Pronti? Via! La lezione si articola in tre fasi. Nella prima fase creiamo il formato lista prossime visite. Nella seconda fase creiamo lo script dinamico per filtrare le visite settimanali dal formato lista prossime visite. Nella terza fase creiamo uno script che permetterà di cliccare su un record dalle visite filtrate e di poter accedere al dettaglio. Passiamo alla prima fase di creazione del formato lista prossime visite. Per creare il formato lista prossime visite andiamo in modifica al formato, andiamo sul nuovo formato resoconto, andiamo mostrare record di visite, diamo il nome di lista prossime visite, scegliamo il dispositivo iPad visto che per i medici e come visualizzazione scegliamo lista fine. In corrispondenza della navigazione superiore inseriamo il titolo. Prossime visite, clicco fuori, andiamo a dare la grandezza di 36 punti, centriamo qui e diamo il colore bianco. Selezioniamo navigazione superiore, andiamo in corrispondenza di aspetto e scegliamo riempimento blu. Va bene, in corrispondenza del spazio intestazione corpo, inseriamo in campi con i relativi intestazioni, etichette. In corrispondenza di preferenze di trascinamento abbiamo orizzontale etichette sopra, la tabella corrente visite, andiamo a selezionare data visita, maiuscolo premuto, selezioniamo, clicchiamo su medico, data visita, ora visita medico e trasciniamo in corrispondenza della nostra area di lavoro. Riposizioniamo a piacere, andiamo in corrispondenza della tabella pazienti e inseriamo nome completo, nome cognome, trasciniamo e rilasciamo qui. Qui anche qui posizioniamo a piacere, nome cognome selezioniamo e inseriamo paziente, clicco fuori, selezioniamo tutti i campi e andiamo in corrispondenza di posizione, allineiamo immagini inferiori, distribuiamo orizzontalmente, ok, andiamo in corrispondenza di dati e qui in inserimento campo disattiviamo modo usa, andiamo in corrispondenza di stili e scegliamo lo stile casella modifica minimo lista che abbiamo configurato in una delle lezioni precedenti, a posto, esci dal formato, andiamo in corrispondenza del primo record e qui siamo a posto, il nostro formato è pronto, ora possiamo passare alla seconda fase. La seconda fase consiste nel creare lo script dinamico che andrà a filtrare questo formato per ricavare solo le visite settimanali. La pianificazione di questo script consiste di passare al formato prossime visite, questo che abbiamo appena creato. Quando passa a questo formato in realtà dovrà creare un mini formato, lo chiameremo scheda. Una volta che avrà creato quella scheda passerà al modo trova, poi andrà ad impostare il campo data visita con la funzione recupera data corrente che sarebbe get data corrente, poi eseguirà la ricerca, dopodiché ordinerà per data e ora visita. Andiamo subito allo script, area di lavoro, opzioni comando S, all'interno dell'area script clicchiamo su più per nuovo script, lo script prenderà il nome di script e visualizza prossime visite, invio, nascondiamo il pannello degli script per avere più spazio, andiamo a inserire la nostra prima istruzione che è nuova finestra, doppio clic per configurare la nuova finestra che andiamo a creare, stile finestra scegliamo di creare una scheda, il nome della finestra prossime visite, in corrispondenza di formato scegliamo formato e il formato sarà liste prossime visite per alimentare questa scheda, ok, la dimensione possiamo dare qui 600 per avere una scheda abbastanza grande, facciamo ok, invio, passiamo l'istruzione successiva che è di passare al modo trova, passa al modo trova, disattiviamo il pausa, il modo pausa, disattiviamo, andiamo alla riga successiva per inserire il criterio, per inserire il criterio utilizziamo imposta, campo, imposta campo, andiamo a definire il target, il campo che dobbiamo impostare, su cui dobbiamo impostare il criterio di ricerca e data visita, ok, il risultato del calcolo, qui dobbiamo dargli get, recupera data corrente, tavolazione, e qui dobbiamo, visto che inseriamo un intervallo tra data corrente e data corrente più 6 giorni, inseriamo la e-commerciale, apriamo le virgolette, un punto, due punti, tre punti, chiudiamo le virgolette e-commerciale di nuovo, qui copiamo questo, comando C, comando V, più 6, ok, invio, invio, a questo punto possiamo eseguire la ricerca, esegui la ricerca, tavolazione, invio, dopo che abbiamo eseguito la ricerca ordiniamo il record, tavolazione, disattiviamo la finestra di dialogo perché andiamo adesso a settare i criteri di ordinamento, data visita e ora visita, ok, invio, 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 dopo l'avere ordinato possiamo passare al record primo, vai a record primo, invio, comando S per salvare, qui, chiudo, andiamo in corrispondenza di un qualsiasi formato, come lista pazienti, andiamo in script per testare e vediamo, script visualizza prossime visite, ritorno all'area di lavoro script, visualizzo pannello script e possiamo collocarlo qui in alto al primo così lo vediamo subito, chiudo, script visualizza prossime visite e qui abbiamo le visite settimanali tra oggi e 6 altri giorni successivi, va bene, facciamo una considerazione, nel caso in cui non ci fossero visite settimanali, quale messaggio viene dato, andiamo a vedere, qui non posso modificarlo perché ho disattivato il modo usa, chiudo, andiamo a lista visite, prossime visite, liste prossime visite, modifica il formato, selezioniamo campo data visita, andiamo dati e modo usa, attiviamo, esci dal formato, andiamo di nuovo ad eseguire lo scritto così possiamo modificare quei due campi in fretta, questo possiamo mettere 18, questo 18, così non soddisferà più il criterio di ricerca, tabulazione, chiudo. Andiamo ora ad eseguire di nuovo lo script, passo a un altro formato, lista pazienti, vado in corrispondenza dello script e eseguo, a questo punto non ha trovato nessun risultato e restituisce questa finestra. Il nostro obiettivo sarebbe di disattivare questo messaggio predefinito e di personalizzare un messaggio più amichevole. Se qui facciamo continua non abbiamo niente, se facciamo annulla viene visualizzato tutto l'elenco delle visite. Chiudo, andiamo in script, area di lavoro script, in corrispondenza del nostro script dobbiamo apportare delle modifiche. La prima cosa che dobbiamo fare per disattivare il messaggio predefinito di FileMaker è di individuare la parte dove quell'errore o quel messaggio viene generato e prima di quel messaggio impostare un'istruzione per dire a FileMaker di non mostrare dei messaggi predefiniti all'utente. Seleziono questa istruzione, invio per creare una riga successiva. Quale istruzione per fare in modo che FileMaker non ci mostri i messaggi? è imposta cattura errore, se scrivi cattura hai imposta cattura errore, tabulazione. A questo punto, questo disattiva i messaggi, noi dobbiamo eseguire la ricerca e dopo la ricerca dobbiamo chiedere a FileMaker se ha trovato o meno qualcosa e per chiedergli se ha trovato o meno qualcosa utilizziamo la logica condizionale if, tabulazione, get, tabulazione e qui inseriamo tro, conto trovati. Diciamo se conto trovati è uguale a 0, invio, invio, allora lì dobbiamo per prima cosa non fare neanche visualizzare all'utente quella finestra. Chiudiamo la finestra, chiudi finestra, dopo che abbiamo chiuso la finestra possiamo mostrare il messaggio, mostra finestra personalizzata tabulazione, doppio clic, andiamo a personalizzare il messaggio che presentiamo all'utente, presentiamo messaggio un po' divertente assenza prossime visite per il titolo, in corrispondenza di messaggio gli diciamo puoi andare in vacanza, non ci sono visite, pulsante 2 togliamo che non servirà, facciamo ok questa è la parte se non ha trovato niente, se invece ha trovato qualcosa per l'if inseriamo altrimenti che è else, invio, selezioniamo l'ultima istruzione maiuscola, selezioniamo l'altra e trasciniamo qui all'interno, comando S per salvare, chiudiamo, andiamo in corrispondenza siamo sempre in corrispondenza del formato lista pazienti, andiamo ad eseguire lo script wow, in questo caso abbiamo il messaggio personalizzato, ok, reimposterò i criteri in modo che diano il risultato e nella terza fase vediamo come creare lo script che permetterà di navigare al dettaglio prestazioni visite. Ho rimodificato qualche campo visita in modo da avere visite che cadano nella settimana corrente. Andiamo ad eseguire di nuovo lo script abbiamo visite della settimana, la terza fase consiste a creare uno script per permettere all'utente di poter navigare al dettaglio di un record delle visite filtrate al dettaglio di quelle visite perciò creeremo un pulsante a quel click permetterà di navigare al dettaglio prestazioni visite di quel record la pianificazione dello script consiste nel prima, visto che questa finestra verrà chiusa prima di chiudere la finestra dobbiamo recuperare l'idivisita di questo record salvarlo in una variabile in modo temporaneo poi quando saremo al dettaglio prestazioni visite e passeremo al modo trova potremo utilizzare il valore di quella chiave di quella variabile per impostare il criterio di ricerca. Chiudo, andiamo in corrispondenza o passiamo a modifica al formato andiamo a formato, selezioniamo liste prossime visite, qui creiamo un po' più di spazio per il nostro pulsante barra degli strumenti, selezioniamo pulsante e trasciniamo qui per creare l'area del pulsante l'icona scegliamo questa, 18, 20 può andar bene esegui script, andiamo a creare un nuovo script, nuovo script andiamo a dare il nome script vai a dettaglio se è la prossima visita ok, nel nostro script come da pianificazione andremo prima a catturare l'idivisita del record corrispondente a quel pulsante per fare quello inseriamo l'istruzione imposta variabile impostazioni, nome variabile id visita valore di questa variabile specifica andiamo a scegliere che è la chiave primaria pkvisitaid ok, ok una volta che abbiamo catturato quell'idivisita e l'abbiamo salvato in imposta variabile id visita andiamo a chiudere la finestra chiudi finestra l'istruzione successiva vai al formato possiamo andare al formato dettaglio prestazioni visite tabulazione formato formato e scegliamo dettaglio prestazioni visite ok animazione possiamo anche scegliere questo che potrà andare bene sull'iPad una volta che siamo nel formato dettaglio prestazioni visite andiamo al modo trova passa al modo trova disattiviamo pausa invio imposta campo tabulazione e imposta campo il target il campo che dobbiamo impostare qui è pkvisitaid ok e il valore lo prendiamo da id dollaro id visita ok invio una volta che abbiamo impostato il campo possiamo eseguire la ricerca la ricerca qui non ci serve l'ordinamento possiamo chiudere ok ok cambia cursore mano sopra il pulsante ok chiudiamo esci dal formato prima di uscire dal formato dobbiamo applicare selezioniamo il pulsante andiamo in stili e applichiamo pulsante lista esci dal formato andiamo in corrispondenza di lista pazienzi script script visualizza prossime visite possiamo cliccare in corrispondenza del paziente Aris Lappa per inserire le informazioni relative a quella specifica visita nella prossima lezione vediamo come generare una mail da FileMaker grazie per l'attenzione e a presto grazie per l'attenzione subito grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.